Che edizione sarà quella di quest'anno nuovamente in quella location stupenda che è la Rocca Malatestiana? Sarà la 26esima, 26 anni sono passati, l'anno scorso abbiamo fortunatamente grazie alla presenza della Rocca Malatestiana trovato la formula giusta, abbiamo trovato la location ideale, era da tempo che la cerchevamo e come sperevamo è successo che questa insieme di location fatta dalla Rocca Malatestiana ma insieme al Jazz Village ha generato un interesse nuovo. Quest'anno particolarmente è un programma molto ricco, è diviso in tre sezioni più due sezioni speciali, nel programma della sezione speciale avremo il Gradara che aprirà come anteprima il festival, Sarà questa meravigliosa musicista cubana, Mary Ali Paceco insieme al trombettista Yo-Yo Krauss e al Teatro dell'Aria invece avremo il trio Tingval Trio, questo per la parte degli eventi speciali, poi avremo la sezione, quella del main stage, cominceremo con Brad Meldau, poi avremo la regina del Jazz Mondiale che è di Bridgewater, poi avremo Vijaya, poi avremo un gruppo giovanissimo che si chiamano i Gogo Penguin che vengono da Manchester, avremo Bill Frizzell, avremo Stanley Clark quindi con una band fenomenale, insomma questa è la parte pesante. Poi voglio sottolineare invece anche la sezione speciale, la sezione del Young Stage dove saranno presenti tre formazioni di giovani, questo lo faremo nella Rocchetta, questo angolino che abbiamo riscoperto è adatto per queste cose, dove ci saranno sei formazioni di giovani musicisti, qui ci sarà più sperimentazione, più innovazione, più ricerca e l'altra sezione è quella di Exodo Stage alla Pinacoteca San Domenico, anche questa è una esclusiva del nostro festival, anche per porre un po' l'accento su quello che è il dramma dell'immigrazione, abbiamo chiamato sei musicisti in solo e le abbiamo chiesto di fare dei progetti musicali con questa linea.